E' bella, siamo qui per cazzeggiare, farvi play e farvi divertire, siamo Joe e Cere, divertitevi e mettete mi piace E' quello che mi ricordo io, ma l'ha vinto, eh ma dobbiamo andare in cucina, non in magazzino, in magazzino ci siamo andati qua, qua no, catene, 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 guarda lì, oh forse, si che io ho sentito delle catene, eh ma perché lui è un po' stordito in presente, ma non ci siano già, io prendo la sedia Hello, c'è Cos'è? Cos'è che? No, l'anfra Oh, guarda in basso, guarda in basso Condizioni molto, eh allora si sappiamo cosa fa L'anfra tira via la sedia da lì, mica che ti blocchi e ti uccida E' parte uno scritto Il bocchetto non si, deve essere ancora indebolito, ma da qua? Sai cosa, il barattolo vuoto dobbiamo prendere dell'acido Secondo me è così No, secondo me è così Si ubriaca la notte del giorno Si, se poi così la prendete Oh, cazzo Direi che è il momento di intappare Ah, burco sei, due Ho detto c'era, ho quello che fa, economia su tutto Oh, grazie No, grazie Non puoi andare fuori, è troppo pericoloso Troppo pericoloso Oh, Gabriel, chi è Gabriel? Ah, non lo so È il gemello malvagio Eh, guarda questa Perché c'è stato questo Non si vede indietro La musica non è delle più convincenti Ancora sto lucchetto di me Oh, guarda lì che c'hanno portati Quante ottime condizioni Sì, ma qua è tutto distrutto Però non si Io ho sentito qualcosa Anch'io Non mi girerei di là Sì, oddio Spegni la luce Prendi il barile Prendi la cassa Oddio Tu non ci vedi 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 Non profuggi la mia la mia parola c'è tradito vendito di lampra che ci ha tradito ci ha fatto andare è il tuo momento scappa non la prima regola di amnesia non voltarsi mai ma anche se ci fosse un e anche dietro mai voltarsi ma no no perché ti sta picchiando e sto tentando di picchiarti ti liscia sempre ok dove? non in una camera mettiti nel lampra oggi tre vogliamo dire non fa rumore lampra non fa rumore che è qui fuori così secondo me poi ti incula il letto che non riesci più a passare non riesci a passare lampra fermo mi sembra giusto mi sembra giusto vai non riesci è lì fuori scappiamo ancora semmai quindi non c'è più c'è più giri scusa chi non gira più lo so andiamo in cucina ti ho detto ma in cucina dove siamo venuti? no ma non ci siamo ancora andati e questo è il punto guarda il cartello c'era indietro guarda qua non ci siamo stati qua non ci siamo stati qua si ci siamo stati però lui c'è perché sento lui vai in cucina ti prego vuoi mangiare te lo so si preferisco per essere assassinato da un posto ehhh vai in cucina donna vai in cucina ma facci te secondo me questa non si apre no simpatica la cucina a me gusta c'è pure una mela e beve ora olio mi sa che fuoco ecco ha raccolto fuoco what the fuck oh cazzo no e secondo me non è una buona idea no per me si per me invece si guarda ecco vedi acido è da fuori eccolo lì fuori prendi l'acido io l'avevo detto sbaglio perchè vuoi trapanare il coso ah così fai uscire un butto c'è io cos'è che avevo detto scusate voi che guardate il video cos'è che avevo detto sacchi di patate scrivetelo nel commento sacchi di patate portalo sfiga portalo sfiga eccolo via nasconditi no non si può qua è pieno lì no ma nasconditi stai giù tipo no lo fottiamo l'anfra lo fottiamo non prende il pane non prende il pane stupido pane no facciamo lo lancio la così lui va la e poi si poi lo vede da dove arriva ma lo sai che sono così stupido pane oddio 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 guarda cosa succede mi guarda che smerdata che smerdata che smerdata oggi è dietro di te comunque non è smerdata girati no scherzo se lo fai ti fischio se li metti entra nel buchino dove era il buchino no scappa dove è il buco dove è il buco io che ho preso figa figa figa